buongiorno a tutti oggi è domenica 5 giugno 22 prima uscita al faggio sono le 6 appena giugno ecco un bel boletus estivais bellissimo bosco di freccio usc'è un'anima ragazzi spero di trovare qualcos'altro questi giorni scorsi si sono trovate a Asdani ora sono salita come sempre un saluto vai